Ben trovati la TG della mobilità, partirà alle 15 in centro il corteo che filerà da piramide a bocca della verità. Il corteo attraverserà Testaccio e proseguirà per Lungotevere. 18 le linee di zona che saranno deviate su percorsi alternative. Intanto dalle 13 sempre in centro è scattata l'area di sicurezza intorno alle termini di Diocleziano, chiuso il capolinea di termini. Sul sito romamobilità.it i dettagli sulle limitazioni delle linee di bus. Ricordiamo infine che in centro chiudono 9 linee della metropolitana, anche in questo caso l'elenco è su romamobilità.it. È tutto per questo appuntamento con il TG della mobilità.